non l'ho dimenticato ancora non va bene cioè ancora non è assaporato la cosa libera l'anteriore libera le braccia giù Non allargare, allargarmi, però con attenzione che poi... Prendi di qua, di là. Cioè, vuoi fare scegliere, così... No, no, di qua è dove siamo saliti. A destra è un po' più facile. Non mi frena davanti. No, ehi, non mi ha già fermato. Poi provare, allucco, eh! Io dovevo cambiare direzione, non ho cambiato direzione perché stavi arrivando tu e stai venendo dentro. Vai, vai, però non ti fermo. Vieni di qua, io volevo portarti di qua, Lucio. No, no, però basta con la russa perché se ti fermi cato. Aspetta un attimo. Ho sbagliato e stavo andando fuori. Eh? Sì, è stato... Sì, ma tutto quello che volete voi, non mi fremo l'ho. 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 Grazie a tutti. 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 Si è spostata, si è scesa. Ah, è andata all'indietro. Il problema è che poi se non prendi un minimo di velocità è pericolosissimo. E poi si è altra sabbia così. Se non prendi un minimo di velocità. Però la sabbia è maggiore. La sabbia è bella. La grandezza è la grandezza e lo sterzo molto grande. Aiuto. questa casa è la sensazione strana che tiene un sterzo piccolo. Chi è il minimo? Come si è detto che un copaccio che fai? A posto. E' una cosa? Se avessi dei freni migliori è la sella più avvitata. Problema? E' una cosa? A posto c'è molto attenzione della mia davanti. Si deve stringere un po' qua. Ma c'hai a presto le chiali o qualcosa? No, non vuoi la prestigione. No, no. Si è allentata quella di dietro. Hai visto? C'è una chialza di 10. Ti muovi, ti abbassi e ti alzi. Mi piace una chialza di 10. Ah, poi mettiamo qui qui. Un po' così. L'arranzio. E' un bene. E' un bene. Guarda, l'unica parte che c'è sinceramente sono i freni. No, guarda che... Ma che arriviamo sulle pietre dell'accorgimento, che cos'è la forcilla? Ma una forcilla non vuoi perdere, eh? Ma ti può togliere anche il precarico e ti può dare. Che devo togliere? Tiene solo un po' di precarico molla e basta. Ma glielo ho dato quasi tutto. Si, ma... Se vedete perdere anche quelle, quindi sicuramente non avrò a perdere. Comunque ti dico... E ti diverti... E' equivale a qualcosa che fai a spendere. Quattro, cinquecento euro di componentistica che non serve a niente. Tieni di questo e divertiti. Magari ci vuoi fare un corpo greco e farlo tranquillamente. Oh... Grazie a tutti 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 e a tutti Tutto il difficile stava là Da qua in poi è tutto facile Grazie a tutti Forse un po' scarica la batteria No? Grazie a tutti 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 Sono sceso a tutti Grazie 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 a tutti